La vera bellezza non è quella del viso o del corpo, ma quella del cuore. Viva la bellezza! Gioca al calcio? È la bellezza, cioè, non so come dire. Cosa non riesco a spiegarmi io? Secondo me, per me la bellezza è l'amicizia. Per me la bellezza è una cosa unica che ha ogni persona. Per i miei animali, per i miei amici, per la mia famiglia. La bellezza per me è bellissima, ti puoi vestire bene, per esempio. Per esempio può essere l'aspetto fisico, oppure anche l'interno di una persona. Quando sono nata. Perché? Alla fine la vita è tutta bellezza. E quando l'ho incontrata, sinceramente non posso dire di averla mai incontrata, perché ce l'ho sempre avuta sotto gli occhi. In ognuna delle persone che ho incontrato durante la mia vita. La musica. La prima volta che l'ho incontrata è stata due anni fa, quando sono andata al concerto dei miei idoli. Quello che una persona apprezza di un'altra persona o quello che gli piace vedere. Per me la bellezza è l'amicizia e l'ho incontrata dal primo istante della mia vita. E' l'amore. La bellezza è una cosa che non si vede precisamente, però la possiamo sentire, diciamo. La bellezza è già che piace. La bellezza è essere belli per se stessi e essere belli interiormente. Per me la bellezza è anche uno stato d'animo. La bellezza secondo me è qualcosa di interno, ma che si può esprimere con l'arte. Ad esempio con la musica, il disegno, diversi tipi di pittura. Potrebbe essere anche per il mondo la bellezza esteriore, però secondo me quella è molto relativa. Quello che uno pensa lo vede e si stupisce, perché diciamo che è bellezza ciò che a uno piace, però non è bellezza la stessa cosa per tutti. Per me bello è una cosa che mi esce dal cuore e che subito penso che sia bello. Cioè lo vedo e è bello. La bellezza è un luogo, una cosa, una persona a cui uno vuole bene oppure ci rimane incantato a guardarla. Il teatro. La bellezza che si trova in una persona o nell'amore. Perché ciò che conta è il tuo cuore, la tua gentilezza. Il fuori è solo una parte. A teatro. Per la prima volta ho visto il mio cuginetto. La bellezza si può vedere anche un po' in tutti i giorni, basta anche in una giornata di sole. Per me la bellezza è il look. Basta saperla riconosci. Quando ho visto per la prima volta la neve. Quando ti piace qualcuno comunque è una forma di bellezza, anche quando ti piace qualcosa. Quando il sole tramonta è bellissimo. Non lo so, ho tanti avvenimenti. Ho conosciuto le mie amiche e lì ho subito capito che è una cosa importante ed è la cosa più bella del mondo. Non lo so. La natura. Qualsia situazione buona che una persona possa compiere in ogni attimo, in ogni momento della giornata. Quale bellezza? Paesaggi. E la natura, la bellezza della natura incontaminata. E sapere comunque andare avanti anche. Poi bello è anche quando ti viene comunque una cosa bene, perché sei felice e è bello. Quando ho iniziato a giocare a calcio. La bellezza per me è una cosa soggettiva all'incontro, quando sento la musica o quando vedo qualcosa o qualcuno che mi piace. La bellezza secondo me si può trovare ovunque. La bellezza sta nelle piccole cose, direi. Però secondo me non c'è un tipo di bellezza, perché la bellezza sa comunque negli occhi di cui guarda. La bellezza è essere diversi ed essere unici nel proprio corpo e nella propria mente. Una parte interiore di una persona. Videogioco. La bellezza siamo noi. La bellezza interiore. La fantasia e la gentilezza. Una cosa che non si può descrivere, una cosa meravigliosa, che ce l'hai dentro il cuore. Nel ballare. Quando ero più piccola. Sempre. Ho incontrato la bellezza quando ho conosciuto i miei amici. Ho rincontrato i miei amici. Io pensavo che era soltanto una parola, soltanto un aggettivo, una di quelle parole normali. Invece non è vero. Una cosa bella quando è nato mio fratello. La prima volta che sono andato a calcio. Ho incontrato la bellezza quando ho visto per la prima volta mio fratellino piccolo. L'amore. Stare anche insieme agli altri. Quando ho preso il mio gatto, era piccino. Ma la bellezza per me è la musica, l'armonia. Da parte mia, per me è la musica, la bellezza. Perché svegli la mia mattina e sapere che tutti i miei amici mi vogliono bene, che sono assoluta da tutti e sapere di poter essere felice con tutti, di poter esprimermi e parlare con gli altri. di poter esprimermi e parlare con gli altri. di poter esprimermi e parlare con gli altri. Di poter esprimermi e parlare con gli altri.